I lavori di manutenzione e completamento del tapiruland di Reggio Calabria proseguono attivamente. Questa mattina il sindaco Giuseppe Falcomatà ha condotto un sopralluogo lungo il sistema ettometrico cittadino che connette il lungomare Falcomatà fino a via Reggio Campi al monastero della visitazione nella parte centrale della città. Presenti durante l'ispezione erano il vicesindaco Paolo Brunetti e i tecnici responsabili degli interventi Claudio Brandi e Paolo Giustra. Il tapiruland di via Giudecca ha recentemente beneficiato di significativi interventi di efficientamento e manutenzione straordinaria finanziati attraverso la programmazione PON Metro. Questi lavori hanno già portato alla completa riqualificazione di tutte le rampe con conseguente risparmio energetico ed economico e un miglioramento generale del funzionamento della struttura. Una parte dei fondi previsti sarà destinata al termine dei lavori alla successiva manutenzione ordinaria con interventi specialistici per garantire il rispetto dei parametri di sicurezza rispetto alle normative vigenti. Il sindaco Falcomatà ha commentato le passate critiche dei cittadini riguardo al malfunzionamento del tapiruland, annunciando con soddisfazione che tutti i tappeti, sia in salita che in discesa, funzionano perfettamente grazie al completamento dei lavori di manutenzione e all'ulteriore intervento pianificato con i patti per il Sud. Falcomatà ha espresso gratitudine ai responsabili dei progetti Paolo Giustre e Claudio Brandi e ha evidenziato che restano ancora alcuni interventi da completare, come la sostituzione dei neon con lampade e LED più moderne. Ha illustrato i progressi nei lavori all'interno della galleria che conduce agli ascensori, collegando successivamente al monastero della visitazione. Il sindaco ha sottolineato che nonostante il cantiere sia meno visibile in città, i lavori procedono costantemente. Ha assicurato che manca solo l'ultimo tratto, che i lavori saranno eseguiti fino alla conclusione, garantendo il perfetto funzionamento di questo strumento di mobilità alternativa in città. L'intervento di completamento del tapiruland nel tratto via Filippini e via Reggio Campi è finanziato con i patti per il Sud per un totale di 500 mila euro. L'intervento riguarda due tratte, una orizzontale attraverso una galleria artificiale e un tratto verticale con un ascensore in uscita su via Reggio Campi, che sarà riqualificato con il posizionamento dei delfini bronzei. Esternamente sono state realizzate scale di collegamento tra via Filippini e via Possidonea, con una piazzetta, spazi verdi, illuminazione e arredo urbano. Alla visita hanno partecipato il sindaco di Isola Caporizzuto, Maria Grazia Vittimberga, che ringrazio per la sua disponibilità e per le azioni che intraprenderà per sostenere questo ambizioso progetto, e il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Gaspare Cavaliere. A Lecce ha concluso dicendo, l'incidente rappresenta certamente un colpo duro, ma non dobbiamo permettere che fermi la realizzazione del progetto originario. Spero che grazie alla mozione presentata possano arrivare contributi significativi nelle prossime settimane per riprendere a completare i lavori su questa struttura, che potrebbe diventare un punto di riscatto non solo per Isola Caporizzuto e la provincia di Crotone, ma per tutta la Calabria.